si avvicina la stagione calda e con essa l'arrivo delle zanzare è attivo però per tutto il 2023 il bonus zanzarire da anni si parla di questa misura anche se in realtà con questo termine si fa riferimento ad un insieme di agevolazioni pensate per rinnovare gli ambienti domestici che rientrano nel campo degli altri bonus si tratta insomma della possibilità nell'ambito di lavori più ampi di installare nuove zanzarire sugli infissi di casa usufrendo di una detrazione fiscale il PEF al 50% le spese detraibili sono quelle sostenute sia per l'acquisto vero e proprio delle zanzariere che per la loro installazione l'importo massimo coperto dall'agevolazione rinnovata fino ad almeno il 31 dicembre 2024 è però di soli 60.000 euro